Bella figura mi stai facendo fare. Non ti preoccupare, abbiamo dalla nostra il 232. E' vero avvocato? Certo signora, però stia calma, soprattutto calma. E' dura l'ex, sed l'ex. Il figlio nascerà, alla faccia vostra. Ah si? E voglio vedere come. Nascerà, nascerà, lo porterà la cicogna. Sua madre. Fa miracoli quell'uccello. Eh no signora mia, non ci sperate. Perché da oggi in poi sorveglierò io. E' in casa vostra uccelli di qual genere? Non ne entreranno, ve lo dico io. Ma tu che fai? Ma dille qualche cosa pure tu, no? Certo. Buongiorno Caterina. No, non gli risponda nemmeno. Eh, buongiorno Caterina. Carrazza di aiuto che mi dai. E' questione di educazione. Ma levati di mezzo dai che guido io. E scendi dalle nuovole, levati, levati via. Oh ma un momento.